E' stata la gestione della riscossione di alcuni tipi di tributi da parte della Regione Campania al centro dell'ultimo question time del Consiglio regionale. Tutto nasce da una proposta del consigliere di Fratelli d'Italia, Luciano Passariello, approvata in sede di bilancio, di affidare questo particolare compito a società partecipate o in alternativa, mediante bando ad esterni. Questo è quanto accaduto secondo il consigliere Passariello. La Giunta invece fa direttamente un bando per affidarsi all'esterno, affidarsi all'esterno era l'ultima spiaggia. Io credo che abbiamo delle società partecipate in grado di poterlo fare, abbiamo dipendenti, tanti di dipendenti e alcuni che si sentono anche offesi, che stanno lì non sempre a pieno regime. Quindi la mia domanda alla Giunta, perché spendere in più quando potremmo risparmiare? Nell'ambito della seduta da segnalare l'interrogazione portata avanti dal consigliere Maria Muscarà del Movimento 5 Stelle circa la gestione delle attività connesse al turismo.